Il viaggio verso l'affermazione commerciale di Penna Infissi inizia a Piazza del Galdo nel 1960, ad opera di Antonio Penna seguito dal figlio Alfonso. L'aumento del volume d'affari che si è sviluppato dagli inizi nei nostri giorni ha portato questa impresa a conduzione familiare, ad espandersi al suo interno con un'area di circa 1500 metri di ampiezza e all'esterno con una domanda sempre crescente da parte d'aziende di comparto e privati. Proprio l'incremento di vendita ha favorito la progettazione di due nuovi showroom, aggiungendo due ulteriori tasselli alla crescita della società, attualmente diretta da Antonio Penna con i fratelli Marco ed Enzo. L'abbinamento di alluminio e legno, progetto brevettato e verso cui la società ha rivolto tutta la sua abilità, è il vero fiore all'occhiello nell'offerta a disposizione della clientela. La solidità e l'originalità caratterizzano porte e finestre che nelle mani dei tecnici di Casa Penna diventano vere e proprie creazioni artigianali, disegnate con gusto e serietà. Anche nella verniciatura dei singoli elementi, Penna Infissi primeggia con un sistema tecnologicamente avanzato e completamente ecocompatibile, a tutela degli operai e dell'ambiente. Grazie per la visione!